Quindi per ci salatare si ha giusto? Ah per forza! E' dura, dura! Ma non fai passare quell'altro? Ma hanno toccato me poi ha toccato lui, cioè... Ah ok, sicuramente! Nooo! Cavolo! Cioè, lo potevo schivare... C'ha un già mal bisogno di vantaggio con gli altri. V Günion, dalle Ancalle no gara in salita molto in salita faccio sferme gomma faccio sferme gomma sferme gara in salita sferme gara in salita sferme gara in salita sferme gara in salita no vai è il festival proprio quello che ci voleva che spettacolo eh vai no non ci credo c'è 16 incidenti in un secondo 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 in un secondo